Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Dobbiamo dire che oggi abbiamo un po' saltato quello che era il nostro appuntamento del martedì mattina perché purtroppo ho avuto problemi di connessione in realtà devo dire che si prospettava una bella mattinata a carica anche di risposte vostre e sullo sport, legandomi anche un po' a quello che avevo fatto domenica pomeriggio e tra le altre cose avevo anche lanciato una foto proprio sulla community dove lanciavo anche un po' il tema di oggi e qualcuno di voi aveva già iniziato a scrivermi come ad esempio chi mi ha detto che da giovane aveva praticato lo sport come sport all'atletica non a livello agonistico ma che poi aveva un po' abbandonato beh, l'atletica è sicuramente un bello sport e che ha tante specialità al suo interno io ad esempio quando andavo a scuola, ecco, come atletica facevo praticamente salto ostacoli e mi piaceva tantissimo e poi vabbè, ho dovuto abbandonare tutto quanto tra gli sport che invece io ho fatto c'è stato il nuoto, c'è stato un anno ma solo uno di danza classica e poi ho fatto anche un po' di pallavolo insomma, niente di tutto ciò è rimasto, come si dice, però nelle mie corde tant'è che lo sport l'ho anche un po' abbandonato è anche vero che ho cercato di in qualche modo riprenderlo e riprenderlo adesso perché mi serviva anche un po' per rimettermi in forma ma sicuramente lo sport aiuta anche a livello non solo fisico ma soprattutto mentale per cui, che dirvi, beh, intanto vi ringrazio perché anche questa volta eravate in tantissimi ad aspettarmi e poi insomma ci siamo scritti per i vari problemi di connessione quindi vi do appuntamento, ahimè, alla prossima settimana perché di questa settimana purtroppo non riesco più a fare la nostra diretta ma non so se avete visto ho iniziato ad essere anche un pochettino più social e che cosa ho fatto? ebbene, ho postato delle foto nella community quindi vi tengo aggiornata in questi giorni come foto delle community anche di quello che riuscirò a fare e naturalmente vi chiedo se avete voglia, come sempre, di rispondermi e magari da lì, insomma, costruiremo quello che sarà il prossimo tema della prossima settimana oppure vedete voi, insomma, se arriveranno tante, 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 tante risposte facciamo che la prossima settimana otterremo questa domanda che non siamo riusciti a fare quest'oggi per cui nel frattempo io vi mando un bacio grande vi ringrazio e come sempre, insomma, potete seguirmi sia sul canale YouTube che sul canale Patreon dove, ad esempio, questa settimana comunque andrò a postare un po' di cose per cui grazie, vi auguro una buona settimana ci vediamo martedì prossimo ciao ciao